Ieri mattina si è tenuto l'incontro con i tecnici di Asset in aula consigliare per parlare dei progetti che prevedono l'accesso al nuovo ospedale di Andria, letteralmente come arrivarci una fase importante lungo la strada della realizzazione del moderno nosocomio che sorgerà in contrada macchia di rosa. Il comune ha presentato una serie di progetti da cui scegliere quello più idoneo che verrà inglobato nella progettazione totale del nuovo ospedale insieme anche ai servizi come l'alimentazione idrica ancora da definire e sui quali l'amministrazione sta spingendo per evitare separazioni. Noi stiamo chiedendo all'Asset quindi di prevedere tutto ciò già integrandolo con il progetto dell'ospedale per evitare che sdoppiandone i finanziamenti e sdoppiandone le procedure di appalto possa accadere che una cosa sia completa e l'altra no. E sarebbe veramente fuori dal mondo se uno completasse un ospedale così oneroso economicamente senza avere l'accessibilità e senza avere l'acqua, la fogna eccetera. Tra le varie ipotesi su cui si sta lavorando ce ne sono due che prevedono un sistema fatto di rotatorie e doppio accesso alla zona dell'ospedale senza passare dalla SP2. Uno di questi accessi arriva direttamente al pronto soccorso. Delle quattro ipotesi che noi abbiamo già visto a Bari ce ne sono un paio che si prestano perché la viabilità viene realizzata, finalizzata proprio con due rotatorie con gli accessi all'ospedale, un doppio accesso all'ospedale. La viabilità comunque viene realizzata a prescindere del destino della tangenziale e quindi della SP2. Quindi qualunque cosa accada dalle SP2, viene spostata, viene raddoppiata eccetera, noi il nostro ospedale lo avremo accessibile e funzionante. Inevitabile chiedersi se questa implementazione dei progetti, di servizi e accessi a quello complessivo del nuovo ospedale possa portare ad un costo ulteriore. L'assessore Curcuruto si dice fiduciosa. Se riescono a integrare il finanziamento di 150 milioni, voglio dire, anche farlo di 155 non mi sembra poi grave o se no contenere i 150 includendo i 5 dell'infrastrutturazione che è assolutamente essenziale. Le sensazioni sono buone? Sì, assolutamente sì perché l'asset si sta molto impegnando in questo senso. Il tavolo con asset si riaggiornerà nelle prossime settimane per giungere alla soluzione definitiva.